Ragazzi, ascoltate! Ho bisogno che vi diate un po' della vostra energia! Aiutatemi! Ecco la mia! Prendila, papà! Anche la mia! E avrai anche la nostra, Goku. Usa tutta quella che ti serve. Ancora questa tecnica, eh? Non mi è mai piaciuta molto, ma perché no? Prendi un po' di energia anche da Lord Breeze. Mi devi un favore, ricordatelo. Non ci sto, Card. No, io non ti aiuterò. Vi ringrazio, ragazzi! Ma ancora non basta. E mi ci vuole troppo tempo per raccogliere la vostra energia. Aspetterò, eh? Sì, ho deciso che ti aspetterò. Almeno con quella tecnica potrò affrontarti... alla massima potenza.